Una conclusione almeno politica dell'accordo di libero scambio tra Unione Europea e Stati Uniti ci deve essere entro la fine del 2015. A spronare l'Unione Europea a non mollare sull'obiettivo di chiudere rapidamente l'intesa sul cosiddetto TTIP è la cancelliera tedesca Angela Merkel che in visita alla Commissione Europea a Bruxelles ha voluto toccare anche questo punto. Vogliamo appoggiare la Commissione affinché questo risultato venga raggiunto ha sottolineato la cancelliera ma sarà possibile ha richiamato le altre capitali solo se tutti gli stati remeranno in questa direzione così come sta facendo Berlino. Per la Germania ho detto chiaramente che vogliamo il TTIP che le condizioni politiche devono esserci per il 2015 l'ha sottolineato anche il Consiglio Europeo e vogliamo appoggiare la Commissione a raggiungere questo traguardo. Sul tavolo degli incontri con il Collegio dei Commissari anche la Grecia stiamo facendo tutto quanto in nostro potere perché il secondo programma di aiuto alla Grecia sia condotto in porto e ci stiamo concentrando solo su questo. Assicura la cancelliera con Jean-Claude Juncker a dare manforte. Prematuro parlare di un terzo programma di aiuti ribadisce anche il Presidente della Commissione. Massima attenzione anche sulla crisi ucraina. Se viene violato il pacchetto concordato a Minsk siamo disposti a portare avanti le sanzioni e a vararle. Mette in guardia Merkel che però assicura l'attenzione. Ora è concentrata su come fare rispettare una tregua che resta ancora troppo fragile.